Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti, siamo in diretta, sono le 7 e 30, iniziamo insieme la giornata sfogliando come sempre i giornali, noi da questa parte sul nostro touchscreen è tutto pronto, voi da quell'altra parte invece magari state sorseggiando il primo caffè della giornata, ma procediamo con ordine, come sempre facciamo, guardiamo prima il santo del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi sabato 15 aprile è Santa Teresa d'Avila, il sole è sorto alle 7 e 22, quindi da pochi minuti e tramonterà alle 18 e 25, guardiamo le previsioni del tempo, quindi vedete giornate sempre più corte, le previsioni per questo fine settimana sono all'insegna della variabilità e delle irregolarità, appunto il cielo vedete è nuvoloso, parzialmente nuvoloso nella prima parte della giornata, però le coperture andranno in attenuazione nel corso del pomeriggio, ci sono possibili precipitazioni però più che altro nei rilievi della regione o nella parte bassa, appunto le temperature in aumento nei valori minimi, vedete la cartina molto eloquente, anche quella per domenica si presenta sull'insegna della variabilità, è scomparsa la simbologia della pioggia, almeno anche sui rilievi, però insomma il cielo sarà poco nuvoloso, qualche addensamento in mattinata, precipitazioni le danno per assenti, quindi insomma tutto sommato una buona domenica almeno sulla carta, le previsioni per lunedì sono queste, anche qui nessuna precipitazione e il cielo parzialmente nuvoloso, quindi possibilità di gite fuori porta, e occasioni in questo fine settimana ce ne sono tante, il tartufo come vedremo è il protagonista della stagione autunnale insieme a castagne ed altri prodotti insomma, bene, guardiamo però cosa ci propongono i giornali questa mattina, giornali che troverete naturalmente in edicola, noi qui vi facciamo vedere un po' i titoli principali, partiamo dal Corriere Adriatico, la pagina di apertura, fotonotizia centrale sul riscaldamento acceso insomma nelle scuole e insomma vincono i brividi social dopo le proteste e insomma degli alunni e dei genitori sul web, Ricci firma l'ordinanza e quindi insomma questa è l'apertura del Corriere Adriatico, ma c'è anche un importante focus sul Corriere a pagina 2 e 3 sulla situazione vaccini e qui c'è un diagramma, si vedono anche delle canne d'organo, qui con le percentuali qual è appunto l'andamento nella provincia di Pesorubino nei distretti dell'area Vasta 1 queste sono le cifre, chiaramente passiamo da questa a questa, quindi da quasi un 70% a meno del 50%, quindi è fuga dai vaccini, è allarme tra medici, si rischia il ritorno di mali ormai debellati da tempo, un preoccupante trend negativo di Pesaro, percentuali al di sotto anche di quelle di Fano e Urbino, comunque tutta la nostra provincia non gode di buona salute da questo punto di vista sui vaccini. Sicurezza sotto la soglia appunto colpa delle bufale del web, lo dice il virologo Burioni che più volte si è scontrato, nota ormai a tutti la zuffa televisiva con Red Ronny, si rivolge direttamente ai genitori, lancia un appello il medico pesarese del San Raffaele e autore del libro che confuta gli antivaccinisti, qui vedete Massimo Agostini, il direttore del Dipartimento di Prevenzione e Salute che appunto si fa vaccinare per l'antinfluenzale. Rimaniamo su Pesaro, arrivano da Lanci una pioggia di milioni per Ricci, per Pesaro, serviranno per riqualificare appunto Via dell'Acquedotto e dal Parco Avventura sul discusso bocciodromo, il maxicantiere destinato a segnare il mandato del sindaco e quindi vedremo come verranno spesi questi soldi. Sanità, sanità sempre sugli scudi, soprattutto in questo momento particolare perché è attesa per lunedì questo incontro con tutti i sindaci dell'area vasta, parlano i 5 stelle, ospedale unico, dicono una spesa inutile, i pentastellati chiedono, fanno una proposta diametralmente opposta, vogliono un'assistenza collettiva e distrettoale con il potenziamento dei presidi articolati in più sedi, esattamente il contrario di quello che si vuole fare in questo momento. Dicevamo tante occasioni per andare fuori porta e ci sono le fiere appunto del Tartufo a Sant'Angelo in Vado, sono attesi tanti motociclisti per un raduno che chiamerà nella città oltre 3.000 bikers provenienti da Mezzomondo, MezzEuropa per il 38esimo motoraduno internazionale del Tartufo per questa 53esima edizione della mostra a Sant'Angelo in Vado. Continuiamo sulle pagine del Corriere e andiamo a parlarvi del Carnevale, ormai siamo sotto le feste di Natale ma in questo momento i carristi stanno lavorando alacremente e si pensa, vista la scomparsa di Dario Fo, che è stato il protagonista di un Carnevale, anche se abbastanza discusso da alcuni, però è stato sicuramente un protagonista di questa manifestazione e del Carnevale più antico d'Italia e quindi si pensa a omaggiare il maestro con un carro dedicato appunto al giullare. Vedete qui nella foto, nell'articolo di Massimo Foghetti, il bozzetto per interpretare i mille volti, le mille facce di Dario Fo. Appunto la Carnevalesca non si lascerà sfuggire l'occasione per un tributo al maestro indiscusso Dario Fo. Agricoltori non tornano i conti, parliamo del Consorzio Agrario che fa il punto della situazione sui 2000 soci in provincia, c'è il sostegno ma il grano si è dimezzato, il prezzo del grano e quindi sono in serio dubbio la semina, gli agricoltori appunto non si ritrovano con i conti e insomma il comparto dell'agricoltura è un comparto molto penalizzato soprattutto per coloro che seminano il grano, causa il prezzo, il prezzo dimezzato, quindi anche i guadagni naturalmente sono scomparsi. Parliamo di manifestazioni, di eventi e nelle pagine del Corriere Adriatico di Fano si parla appunto del Fano Film Festival che allarga e oltre ai corti punta anche sui lungometraggi, aperta un'altra sezione, vedete qui il suo patron e ideatore Fiorangelo Pucci che mostra orgogliosamente i premi che come vedete sono di modesta entità però tutti lo vogliono vincere e quindi è presentata questa rassegna che ha diverse novità in servo quest'anno, tante sono anche le sale oltre al Teatro della Fortuna, altre sale saranno quelle interessate da queste proiezioni e poi in queste ore stanno per, nelle prossime ore stanno per arrivare gli amici di Arquata, amici perché ormai con Fano si è instaurato un legame inscindibile anche in virtù di altre esperienze appunto pensiamo a Castelvecchio e a Calvisio, ad altre realtà colpite dal terremoto che hanno legato con Fano si farà la stessa cosa con Arquata, non solo perché c'è stata la protezione civile che è stata lì e tornerà ancora lì ma perché si è segnato un momento importante della pagina solidaristica di Fano. Arrivano i cittadini di Arquata, un tour per non lasciarli soli, una folta delegazione visiterà Fano e San Costanzo una ventata di spensieratezza dopo tante ore passate sicuramente in uno stato d'animo che non si riesce neanche a immaginare se non lo si prova. Questo è il sindaco di Arquata, vedete, tra la protezione civile, il capo della protezione civile e qui Margherita Pedinelli e Massimo Seri, i due sindaci che ospiteranno gli amici di Arquata. Andranno anche al Pesce Azzurro, ci sarà una serata qui a Tre Ponti, la cooperativa Tre Ponti per mangiare insieme, stare tutti insieme e anche ricevere le donazioni di tutti i fanesi proprio per Arquata del Tronto e festeggiare insieme anche alla protezione civile che festeggia il suo trentennale. Andiamo a Senigallia. Senigallia prendono per le braccia i disabili per farli entrare nel locale. Accade in un bar alla Cesanella e il titolare del bar Azzurro 85 dà uno sfogo amaro di questa cosa perché, insomma, vedete, la scalinata sicuramente non è a prova di carrozzina. L'amministratore però del condominio è possibilista sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Insomma, vedete, qui ci sarebbe lo spazio per creare uno scivolo o qualche cosa che perlomeno dia la possibilità ai portatori di handicap o quelli che si muovono con le carrozzine di accedere al bar. Ancora Senigallia, carabinieri in azione, non pagano il conto al ristorante, i carabinieri intervengono, il titolare Fiuta, NASA, che qualcosa non stava andando bene, li chiama e intervengono e li bloccano. Andiamo nel resto del Carlino, passiamo dalla pagina di apertura, naturalmente, anche qui fotonotizia centrale, hanno vinto i freddolosi, arriva il caldo, sono previste giornate di caldo per la prossima settimana, ma il sindaco ha ceduto, Ricci ha ceduto alle proteste di studenti e firmato all'accensione dei termosifoni. Poi, legge 104, i detective contro i furbetti arrivano agli investigatori, incaricati dalle aziende per controllare se effettivamente i permessi ricevuti per la 104 siano giusti e i dipendenti siano, insomma, corretti in questo aspetto. Eccolo qua, l'articolo, sono due pagine in realtà, la pagina 4 e la pagina 5, che si occupa di questa vicenda termosifoni, arriva il vento di Scirocco, ma Ricci accende i termosifoni. Il sindaco verde, green, per Antonio Masi, è un po' stato sepolto dalle proteste e dice almeno non sprecate, le previsioni della protezione civile sono chiare, aumento della temperatura per i prossimi giorni, però, insomma, centenari di telefonate hanno messo in allarme Ricci che ha firmato l'ordinanza. Acquedotto, ecco i soldi, anche qui 11 milioni pronti per riqualificare questa zona di peso e qui questo è il rendering su come verrà più o meno realizzata da, insomma, d'ora in avanti questa opera. Andiamo a Fano con le pagine del Corriere del resto del Carlino. Scusate, una denuncia a tempi infiniti di consegna, a parlare è Gabellini, motorizzazione ferma, così fanno fallire le dritte, quindi non si riesce a immatricolare. Per le targhe ora mi rivolgo a Bolzano, vedete il volto e l'atteggiamento un po' scorato del rivenditore di automobili. Ancora nelle pagine del Corriere del resto del Carlino, il nuovo ospedale, l'ospedale, la sanità e quello che avverrà nelle prossime ore è sicuramente sotto la lente di ingrandimento non solo degli organi di informazione ma di tutto il mondo politico. Seri, atteso al Varco per lunedì, farà il funerale alla Santa Croce. Nuovo e duro scontro tra maggioranza e opposizione. E invece gli altri dicono no, sta solo cercando una soluzione. Le due facce della stessa medaglia. Lavori tra il circuito Marconi, il circuito ciclistico Marconi e altri siti sportivi della città passa l'intervento del CONI che è sicuramente un intervento che mira a riqualificare alcuni impianti sportivi a livello italiano, a livello nazionale, sono arrivati questi fondi anche nelle Marche e anche Fano. Ha presentato due progetti, uno è quello appunto del circuito Marconi di 300.000 euro e poi ce n'è un altro previsto per un impianto sportivo calcistico che ancora è da decidere quale sia per altri 200.000 euro. Insomma, quindi tanti soldi per riqualificare due importanti siti sportivi della nostra città. Vi dicevo, tante le occasioni, tante le fiere del Tartufo, sono due nelle nostre vicinanze. Quella appunto di Sant'Angelo in Vado che ho mostrato prima e adesso in chiusura vi mostro questa qui l'articolo che riguarda quella di Pergola che domani chiude i battenti, è l'ultima giornata per Pergola ma un'edizione sicuramente da record, domani il sipario cala però insomma tante iniziative per l'ultima domenica a Pergola menù in piazza, spettacoli dal vivo, musei aperti, la possibilità di andare a vedere i bronzi dorati l'ultimo aroma di Re Tartufo, il sindaco Baldelli che lo vedete qui, insomma impugnare un gruppo nutrito di tuberi la piazza al bianco pregiato può diventare un valore aggiunto dell'evento e la pizza scusate al bianco pregiato può diventare un valore aggiunto all'evento ecco perché qui la foto insieme al pizzaiolo che insomma tutti conosciamo che da tempo fa pizze molto spettacolari. Bene, grazie per essere stati con noi questa è l'ultima notizia che vi davo, insomma se avete possibilità divertitevi nel weekend naturalmente l'informazione torna lunedì mattina con i due appuntamenti classici occhio la notizia la sera alle 20.30 ma la mattina alle 7.30 c'è la rassegna stampa per iniziare la giornata e l'informazione insieme a noi. Grazie, buon fine settimana a tutti voi Grazie.